Oggi potrebbe essere veramente una giornata molto molto importante per quanto riguarda Bitcoin e ragazzi sì, questo potrebbe davvero cambiare tutto infatti come possiamo vedere settembre era partito veramente molto male per questo 2024 ma ce l'aspettavamo perché era stagionale eravamo infatti circa a o meno 8% prima di cominciare a risalire in realtà questa risalita non riguarda solo Bitcoin ma un po' tutti gli asset tradizionali con l'oro, l'SP insomma un po' tutti stanno performando qui in occidente e anche in oriente però ragazzi questo dato potrebbe cambiare veramente tutto perché abbiamo anche delle novità per quanto riguarda gli ETF una svolta direi anche piuttosto importante andremo a vedere anche delle similitudini con quello che è stato il 2020 e cercheremo di capire se i prossimi due mesi potrebbero essere i mesi cruciali di questo ciclo in questo bull market metti like, iscriviti al canale e ci vediamo dopo la sigla tra 5 secondi sempre sul prezzo bentornati ragazzi in una nuova puntata di Crypto Flash allora quello che possiamo vedere infatti è che settembre era cominciato veramente molto molto male con un meno 8% mentre oggi ragazzi se andiamo a prendere il mensile vediamo un Bitcoin chiudere molto probabilmente questa candela mensile verde a meno che oggi ragazzi facciamo un dump clamoroso fino sotto i 58.000 dollari ma dubito perché è proprio oggi che andiamo a chiudere questa candela infatti mi aspetto volatilità oltretutto ragazzi come possiamo vedere siamo andati a ritestare la parte alta sul settimanale di questo canale proprio durante il weekend fine settimana più o meno con un ritesto dei 62.000 dollari dei 66.000 dollari che al momento ci ha rigettato e stiamo andando guardate qua a cercare di andare a confermare questo higher love che è stato higher high scusate che è stato molto molto importante quindi andare a ritestare questi che sono stati i massimi rotti ok per andare ad invertire ad iniziare ad invertire il trend è importante ragazzi che riusciamo almeno a tenere questo supporto oppure andare a prendere un po' di liquidità qui per poi ritornare ad attaccare di nuovo questo questa trend line discendente potenzialmente magari romperla ritestarla e poi andare finalmente ad attaccare area 70.000 dollari quindi come vedete sopra la testa abbiamo un bel muro ma quello che è veramente importante ragazzi è che dal punto di vista del mensile oggi si va a chiudere una candela che non ci si aspettava perché il mese di settembre è da tutti considerato come il mese più bearish in assoluto dell'anno non solo su bitcoin in realtà anche sui mercati tradizionali che c'è da dire continuano ad essere in all time high andiamo a prenderci quello che ha fatto il gold ragazzi sul mensile guardate che roba parabolica in una bull run senza fine andiamo a prendere l'SP l'SP che come vedete è andato a fare comunque dei nuovi massimi e quindi in generale questo è stato un mese positivo ragazzi per tutti i mercati questo è il Nasdaq che come vedete anche lui è vicino ai suoi massimi storici forse ha fatto anche un all time high proprio questo mese quindi a livello di mensile tutti gli asset ragazzi stanno performando e paragonandolo in effetti bitcoin sembrerebbe il più debole tra tutti per il momento come performer proprio perché arrivavamo anche da una continua come vedete presa di liquidità qua sotto quest'area ragazzi che ci ha fatto da liquidity zone veramente molto molto forte e questo è già un segnale infatti chiudere la candela mensile in questo modo vorrebbe dire che quest'area di liquidità è stata confermata come un'area importantissima un supporto importantissimo sui time frame maggiori che ci respinge tutte le volte in aria quindi qua i bulls ragazzi si fanno sentire e ora siamo appunto all'attacco di questi massimi e perché rotti quali ragazzi potremmo appunto andare finalmente ad attaccare i vecchi massimi storici quindi importantissimo vedere se nei prossimi due mesi visto che stagionalmente sono i mesi più bullish dell'anno per quanto riguarda bitcoin avremo la forza di andare a fare ciò ragazzi c'è anche da dire una cosa esattamente come settembre è tendenzialmente un mese molto molto bearish e andiamo a vedere anche qua ed era partito tra l'altro molto male vedete che soltanto in tre occasioni da quando dal 2013 praticamente è stato verde quindi questa sarebbe la quarta volta ok un'eccezione quindi direi rispetto alla statistica non è detto ok che ottobre possa essere altrettanto una sorpresa e quindi magari essere rosso perché ragazzi c'è da dire questo cioè il fatto e questo ve lo continuo a dire il fatto che bitcoin statisticamente spesso fa una cosa non vuol dire che la farà per forza ok ragazzi a volte viene viene completamente rotta la ciclicità o comunque vengono invertiti i ruoli quindi bisogna assolutamente stare attenti e seguire quello che il mercato ci dice non cercare di prevedere secondo le appunto la storicità la storicità che tra l'altro è cambiata tantissimo ragazzi dal 2013 al 2024 quindi è anche quasi in realtà inutile andare a vedere è vero che bitcoin ha dei pattern e questi pattern tendenzialmente tendono ad essere rispettati ma mai allo stesso modo c'è sempre qualche novità quindi attenzione ragazzi a credere che esattamente accadrà come è accaduto tutte le altre volte comunque sia come vedete la parte cerchiata in nero da dove comincia appunto domani ottobre è la parte dove statisticamente siamo più bullish ma ragazzi ci sono stati anni in cui ottobre è stato negativo è successo nel 2018 con un meno 3% e poi nel 2014 con un meno 13% in effetti tutti gli altri mesi sono stati incredibilmente positivi con una performance media del 22.9% quindi abbiamo diciamo una stagionalità piuttosto positiva oltretutto ragazzi la novità sugli etf è che sono tornati sono tornati ad accumulare questa settimana è stata una settimana pazzesca ragazzi con alcuni importantissimi soprattutto nella giornata del 26 e del 27 settembre pensate 365 milioni di dollari il 26 settembre e 494 milioni di dollari mezzo miliardo in un giorno solo il 27 settembre questi sono numeri incredibili se consideriamo che l'etf esiste già da gennaio quindi esiste già da diverso tempo e aveva avuto una fase di rallentamento addirittura di storno durante i mesi e il mese di agosto quindi durante l'estate per poi iniziare di nuovo riaccumulare durante settembre e in quest'ultima fase ragazzi stanno riaccumulando in modo veramente aggressivo sta guidando blackrock come al solito ma anche fidelity e soprattutto archinvest nella giornata del 26 del 27 ha avuto degli inflow importantissimi ragazzi 203 milioni il 27 e 113 milioni invece il 26 di settembre quindi veramente numeri molto molto importanti e che fanno presagire appunto che qualcuno si sta posizionando di questi grossi investitori e ricordiamoci che chi sta scommettendo sugli etf sono tutti tranne che retail perlomeno nella maggioranza e prima di continuare prima di continuare ragazzi vi volevo ricordare che c'è questo bonus incredibile di binghiz che tra 15 ore quindi esattamente allo scadere della giornata di oggi scade potete avere un airdrop di 20 milioni di pepe e un bonus fino a 4000 dollari se utilizzate il link sotto in descrizione per iscrivervi a binghiz questo bonus è valido anche se siete già iscritti ovviamente con il mio referral quindi se avete un account con il mio link visto che ovviamente ragazzi è un invito privato questo solamente adatto appunto a noi ambassador chi ci ha dato di fare questa promozione potete ragazzi se avete già un account depositare avere comunque il 10% di bonus sul vostro deposito quindi se siete nuovi vi potete iscrivere e aggiudicare questo airdrop di pepe più questo bonus se andate a compilare diciamo le varie tasche che ci sono ragazzi si arriva ad avere fino a 4000 dollari di bonus quindi davvero tanta tanta roba se invece siete già iscritti potete appunto comunque approfittarvi di questo bonus sempre utilizzando il link apposito che vi lascio qua sotto in descrizione ultime 15 ore ragazzi come sapete io ormai sto lavorando solo con Bing Eats tra l'altro ho avuto un problema molto difficile in quest'ultimo periodo ma come vedete lo hanno risolto in 24 ore sono stati super di parola sono stati super bravi ed efficienti e questo secondo me è una conferma ok della qualità di questo exchange o perlomeno io mi trovo veramente molto molto bene lo uso per fare trading lo usiamo in academy e quindi vi consiglio di dargli un occhio poi ragazzi ovviamente i fondi come vi sempre teneteli fuori dall'exchange ok qui si usa solamente per fare trading ragazzi ci sono varie similitudini anche riguardo a quello che è il 2020 io non so se vedete delle similitudini in questo grafico ma era interessante portarlo quindi cerco di essere imparziale secondo me ragazzi non è proprio uguale anche perché nel 2020 abbiamo questa candela qui ovviamente è un mensile abbiamo questa candela pazzesca che ci ha portato addirittura fino a 3.000 dollari quindi ha preso una presa di liquidità incredibile ed è successo a causa del covid però come vedete c'è una fase di lateralità e di accumulo che possiamo vedere che poi è esplosa soprattutto proprio nei mesi di ottobre novembre e dicembre cosa che potrebbe essere molto simile a quella che stiamo vedendo ora nel 2024 non lo so ragazzi vediamo sicuramente molti sono bullish per questo periodo si stanno preparando stanno aspettando appunto di potersi posizionare nel modo corretto qui tornando a parlare di etf come vedete possiamo vedere in generale come stanno andando e abbiamo raggiunto ragazzi un nuovo record quasi 19 miliardi di dollari di bitcoin praticamente accumulati dagli etf e come possiamo vedere è un risultato incredibile ragazzi nessun altro etf al mondo è riuscito a fare questi risultati non ci dobbiamo abituare a questo pensando che sia una cosa normale pensando che sia una cosa e vabbè cosa sarà mai e siamo abituati ai record di bitcoin no ragazzi è una cosa incredibile ed è giustamente noi dobbiamo tarare tutti questi parametri fondamentali per applicare quella che è la nostra strategia di investimento e bitcoin ragazzi a tutti gli effetti secondo me continua a essere un asset incredibile che molto probabilmente al momento è anche sottoprezzato se consideriamo che ovviamente non sono così finanziari ma è la mia idea se consideriamo che siamo gli stessi prezzi del 2021 con fondamentali molto molto diversi che sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni quindi attenzione ragazzi perché poi quando parte la fomo è troppo tardi e dovete rincorrere il prezzo andiamo a vedere anche il tirium perché anche tino ragazzi come avevo più o meno previsto sta cominciando ad avere un accumulo importantino di etf ovviamente non sono gli stessi numeri di bitcoin ma iniziano ad essere numeri interessanti ancora una volta ragazzi su questo canale ve ne ho parlato ve l'avevo detto guardate che prima o poi soprattutto mano a mano che ritorna un po' di positività partendo ovviamente da bitcoin che guida il mercato ma poi in generale su tutto il settore delle cripto ecco che anche il tirium ragazzi vedrà un etf che inizierà ad avere un suo accumulo etf che ovviamente va molto più lento rispetto a quello di bitcoin che ricordiamo essere un record quindi ragazzi è abbastanza difficile essere sempre tra i record ok soprattutto per un altcoin ma la giornata del 27 settembre ha accumulato 58 milioni praticamente nulla il 26 il 25 43 il 24 62 quindi sta cominciando ok a macinare inflow positivi andando ad assorbire anche gli outflow di grayscale che comunque continua ad esserci ok grayscale che esce vende appunto la sua grossa dotazione di ethereum proprio perché è assolutamente sconveniente andate a vedere qui quanto è praticamente il tasso di interesse di questo etf ed è 10 volte superiore a tutti gli altri quindi anche chi si ritiene in questo si ha in pancia questi 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 ethereum etf di grayscale ovviamente li venderebbe voi non li vendereste io li venderei quindi è ovvio che sia così anche loro in realtà come vedete stanno aspettando che ci sia più liquidità perché come vedete le transazioni le fanno più o meno in modo scaglionato cioè cercano di non venderli tutti insieme già questo è un buon è un buon segno tra l'altro una parte non ancora totale viene comunque riassorbita invece da quello che è l'etf di blackrock su ethereum quindi molto interessante anche questo aspetto ethereum ragazzi che anche a livello di price action continua a essere secondo me assolutamente debole ma appunto è proprio qui che diventa interessante secondo me dargli un occhio soprattutto visto tutto il discorso che abbiamo fatto sulla stagionalità e quindi occhio ad ethereum ragazzi io ve l'ho detto poi non dite che non ve l'ho detto ok sotto in descrizione ragazzi trovate la possibilità di iscrivervi ok invece alla nostra newsletter potete quindi iscrivervi alla nostra newsletter della deserve academy questa settimana usciremo con la prima analisi gratuita è completamente gratis ragazzi dovete semplicemente cliccare con il link qua sotto che vi lascio e lasciare la vostra email non faremo spam ma vi manderemo semplicemente un riepilogo settimanale con le nostre considerazioni mie e di mano per quanto riguarda questo mercato quindi è gratuita avete un sacco di valore un sacco di opportunità dentro bonus cose insomma vi consiglio di iscrivervi è gratis non mi costa nulla ed è appunto disponibile da ora questa settimana cominceremo con le prime quindi link sotto in iscrizione lasciate la vostra migliore email poi controllate nello spam se non vi è arrivato nulla entro questa settimana un'altra cosa ragazzi che volevo farvi vedere per quanto riguarda bitcoin è la sua bitcoin volatility history perché è molto molto interessante siamo arrivati infatti a un punto in cui la volatilità di bitcoin nonostante tutto come vedete andiamo ad aprirla è è scesa ok guardate qua la sua volatilità è praticamente quasi ai minimi durante questo ciclo e di solito ragazzi quando raggiungiamo questo livello è un livello dove a un certo punto c'è un'esplosione di volatilità che può essere a rialzo o anche ovviamente a ribasso siamo arrivati appunto in una fase molto molto interessante dove praticamente un'esplosione di volatilità è attesa ovviamente non si può sapere se verso l'alto o se verso il basso ma a un livello grafico ci siamo siamo molto vicini fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto con un bel commento io spero che questo video vi sia stato utile noi ci vediamo prestissimo a una prossima puntata ciao ciao